In periodi di vacche magre la vera sfida è di fare di più con meno, e questo deve riguardare tutti ovviamente. Che questa previsione sulla dimensione delle vacche sia credibile nei prossimi due o tre anni non avrei dei dubbi. Sicuramente condivido con lei il fatto che sia sbagliato considerare la cultura nella sua accezione più ampia, quindi anche e soprattutto ricerca scientifica, applicata, pura, teorica, come una sorta di bene superfluo. Anzi io credo che oggi come oggi Bologna debba essere uno degli ingredienti chiave di quella attrattività Bologna seducente, di cui sicuramente in prospettiva dovremmo cercare di gettare ulteriori premesse. Aggiungo anche che probabilmente in questi casi politiche culturali che si misurino ovviamente come tutte le altre con l'efficienza sia una sfida per tutti e credo consentano anche di riorganizzare delle reti molto ricche, molto articolate come nel nostro territorio in vista di finalità ancora più ambiziose. Ha detto in altri termini, la vera sfida per amministrare nei prossimi anni è quella innanzitutto dell'efficienza. Ovviamente l'efficienza ha molte facce, significa valorizzare delle organizzazioni che già ci sono, incorporare il progresso tecnico meglio ancora di quanto abbiamo fatto. Faccio un esempio, bolognese che conosciamo tutti. Io credo che un'azienda pubblica come Cube 2000 sia un ottimo esempio di mix di ricerca applicata, di innovazione tecnologica, peraltro al servizio di un bene supremo come è la nostra rete di welfare e che sicuramente riesce a produrre anche efficienza di cui immediatamente gli utenti possono beneficiare, perché è meglio che le cartelle cliniche girino su dei software e su delle card invece che attraverso dei faldoni, oppure che si possa andare dal medico di base e da lì fare tutto e non poi dover andare a fare la cosa da altre parti. Ecco, è un esempio molto specifico ovviamente, però credo che proprio anche dall'interno possono avvenire fuori delle proposte di questo tipo, così come credo che anche le manifestazioni culturali, nel senso questa volta sì, di eventi, se non vogliono restare così un po' isolati o avvenimenti molto sporadici dovrebbero il più possibile ancorarsi a dei tratti distintivi della città, faccio anche qui un esempio, se io devo descrivere Bologna a degli stranieri, cosa che mi accade o qui o all'estero, uno alla fine deve trovare tre o quattro parole chiave, non è che gli può raccontare tutto, dice vabbè la posizione, poi dice l'università più antica del mondo, poi dice la struttura produttiva, un'impresa ogni dieci famiglie, un'impresa ogni dieci abitanti, ogni quattro famiglie, poi alla fine due o tre aggettivi quali sono? Wealth, l'economia sociale, il mondo cooperativo, quindi per esempio fare un festival dell'economia sociale non solo avrebbe la caratterizzazione di essere un evento culturale, ma sarebbe anche un elemento di riconoscimento, di auto-identificazione da parte di un bel pezzo di città, non semplicemente di un qualche gruppo di imprese, io credo che questo sia uno sforzo su quale dovremmo mobilitarci tutti e che contribuisce fra l'altro a quella internazionalizzazione ulteriore di cui si parlava prima.